Allora, intanto esprimo la soddisfazione e la gioia anche da parte mia di avere il professor di Itali con noi, la mia funzione qui è soltanto quella di non lasciarlo solo al tavolo, quindi non è che io abbia molto da dire e che possa dire delle cose, ma certamente sentirete un'esposizione molto interessante sul rapporto e sulla qualità, diciamo, della vita degli animali in relazione all'uomo. Io mi rifaccio a un'intervista che lui ha concesso un po' di tempo fa, lui è datata 7 novembre 2016, che si conclude con una frase che io vorrei fosse l'inizio della sua conferenza. La frase dice, l'animale è buono da pensare. Potrebbe sembrare enigmatico, ma senz'altro lui saprà chiarire questa sua frase e renderci non soltanto partecipi, ma anche entusiasticamente consentienti. Prego, professore. Bene, tanto ringrazio voi che mi avete invitato, io ringrazio voi tutti presenti questa giornata festiva. Ho detto prima che, poiché l'argomento è di, non di grande importanza, ma di enorme importanza, l'animale è buono da pensare nel senso che questo argomento che è stato obbliato, che è stato messo nel dimenticatoio per secoli, è un argomento che ci apre le porte per leggere in profondità la nostra civiltà nel suo insieme, la nostra cultura, le nostre filosofie e anche le nostre religioni. Perché, come spero di avere il tempo di chiarire meglio dopo, è un fatto che le religioni hanno svolto per secoli un ruolo di oggettiva de-responsabilizzazione dell'uomo nei confronti di tutti gli altri viventi. A mio giudizio, ho detto sempre in tutti gli incontri, se ne salvano due, il buddismo maiana in particolare e alcuni resti dell'antico zoroastriesmo. È interessante notare che Pitagora, Zaratustra e Buddha sono nati nello stesso periodo storico. Ecco, fatta questa premessa, io comincerei. Allora, vorrei mettere alla vostra attenzione questi quattro punti. Il primo è che il mondo è cominciato senza l'uomo e finirà senza l'uomo. Secondo, le farfalle multicolori sono nel mondo da 80 milioni di anni, esseri che noi consideriamo effimeri. Noi ci siamo, almeno dalle ultime ricerche, da 300 mila anni. Forse siamo noi ad essere effimeri. Terzo, sono convinto che la grandezza dell'uomo sta nella comprensione profonda della sua piccolezza. Quarto, non il tutto è per noi, cioè per esempio quello che ci dice l'antropocentrismo, ma noi per il tutto. Quindi è necessario un mutamento di prospettiva. All'antropocentrismo dobbiamo opporre quello che già il Buddha, ma quello che già Pitagora e tanti altri, Empedocle, Teofrasto, Porfirio, Plutarco, eccetera, abbiamo capito, dobbiamo opporre piuttosto il biocentrismo. Io sono un teorico del biocentrismo, tra l'altro. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo porre al centro della nostra riflessione, nella lettura del mondo in cui siamo incappati per caso. Noi dobbiamo porre al centro della nostra attenzione non un singolo frammento. L'uomo è una goccia nell'oceano della vita, non è la vita nel suo complesso. E quindi noi dobbiamo porre al centro dell'attenzione, dal punto di vista filosofico, ma anche scientifico, lo dico in senso anche positivista, in senso molto grezzo, insomma, ruspante. Noi dobbiamo porre al centro della nostra riflessione la vita, non un frammento della vita. Dice un filosofo del Settecento, Jennings, uno poco conosciuto ma importante, la superiorità dell'uomo sugli altri animali è tanto trascurabile al confronto dell'immensa realtà dell'esistenza universale, quanto la differenza di clima tra il bordo settentrionale e il bordo meridionale della carta sulla quale sto scrivendo, rispetto al calore e alla distanza del sole. Qualcuno ha suonato? Allora, che gli animali siano soggetti di una vita, una vita che vuole vivere e che ha valore inerente in sé, questo è un altro punto fondamentale. Sottolineo questo punto in più lavori perché tutta la nostra civiltà, da quella biblica a quella aristotelico-tomistica, è fondata sul concetto di destinazione ad altri. concetto molto interessante che ha consentito all'aristotelismo, per esempio, di costruire una visione gerarchica di potere sul mondo che implica che gli animali sono per gli uomini. libro della politica, libro primo alla riga, 1256, se andate a vedere Aristotele, è chiaro. La guerra si deve fare contro gli uomini che nati per servire, nati per servire si rifiutano, contro gli uomini e contro gli animali, perché gli animali sono stati fatti per l'uomo. risponde il testo biblico, l'uomo è all'immagine e somiglianza di Dio, vale a dire, il termine ebraico è Beth Salem, no? Cioè, è proprio l'immagine e somiglianza. Interessante questo, ma la domanda che potremmo fare è, gli animali sono all'immagine e somiglianza di chi? Allora, i neri non sono per i bianchi, le razze gialle non sono per i bianchi. E' interessante, negli Stati Uniti si usa l'espressione amico dei negri, amico degli animali. Mi fa un'espressione interessante, perché spiega una situazione. non ci sono esseri che sono destinati ad altri. Destinati da chi? Quindi, il buddismo riconosce, riconosce che la vita è vita che vuole vivere. E se anche il concetto non è espresso in questi termini, ha valore inerente in sé, vale a dire, ogni vita che vive ha valore inerente in sé. Non sono io che attribuisco valore alla tua vita, alla vita della femmina, o alla vita del maschio, o alla vita del nero, o dell'animale. Ogni vita è vita che vuole vivere e ha valore inerente in sé. E quindi, come tale, noi la dobbiamo rispettare, se non averne cura. Perché il mondo, poi, ha anche bisogno, soprattutto nella nostra plumbea fase storica, qui adesso vi dirò qualcosa, vi è bisogno di prendersi cura, forse un po' in ritardo, del mondo, della civiltà, abbiamo bisogno di innalzare la civiltà. E dicevo prima, in sede privata, che è abbastanza curioso che alzino la bandiera della difesa di chi non ha difese, soggetti che per secoli hanno svolto un ruolo di oggettiva de-responsabilizzazione, e hanno costruito questo mondo nel quale si massacrano gli uomini in guerra e si mangiano le carcasse delle bestie, degli animali. Questo è un dato oggettivo, non è una affermazione retorica, è il fondamento della nostra civiltà, è l'aristotelismo, è il tomismo. Quindi, che gli animali siano soggetti di una vita che vuole vivere e che ha valore inerente in sé, che non siano destinati ad altri, che abbiano interessi, memoria, capacità cognitive, come lo splendido trattato di Plutarco, se lo leggerete vi spiegherà, ve lo spiega, Plutarco è un contemporaneo di Cristo, filosofo e sacerdote ad Elfi. Che abbiano capacità cognitive straordinarie, coraggio nel difendere i loro piccoli, che siano capaci di altruismo, capaci di imparare, non è più oggi una questione filosofica. I lavori di Patterson, Goodall, Primack, scienziati, studiosi, etologi, americani, ci hanno portati a una rivoluzione copernicana. Al centro dell'immenso ventaglio dei viventi è la vita in tutta la sua complessità e potenza. È tale complessità, potenza e bellezza che va indagata come da secoli la più alta filosofia da Oriente a Occidente ha indicato, richiamando gli uomini dai loro furori e dalle loro incomprensioni. Io trovo abbastanza significativo circa la capacità di osservazione e comprensione dell'uomo che vi siano state e vi siano ancora milioni di persone che negano intelligenza e memoria agli animali. Come un tempo la si è negata ai neri, agli schiavi, alle donne e davvero mi dispiace in questa occasione di non avere tempo di affrontare meglio le problematiche, come un tempo si è negata l'intelligenza ai neri, alle donne, agli schiavi, così si continua a negare al mondo animale. Plutarco scrive che l'intelligenza rifacendosi a Stratone di Lamsaco che è un grandissimo dice che l'intelligenza è una costrizione biologica e che ogni vita partecipa per natura al logos che tiene il logos è un principio che tiene insieme la vita e il mondo perché non si sfasci. Dice Plutarco vi leggo solo una cosettina sull'intelligenza degli animali tutti gli esseri viventi siamo nel primo secolo tutti gli esseri viventi proprio perché hanno la facoltà di sentire e desiderare sono naturalmente suscettibili d'opinione e di ragionamento la natura infatti dalla quale giustamente si dice faccia tutto per una causa e in vista di un fine non ha affatto sensibile l'animale perché semplicemente si accorgesse di sentire qualcosa dall'esterno poiché ogni creatura è esposta a mille incontri gli uni benefici gli altri pericolosi la sola possibilità di sopravvivenza consiste nel sapersi guardare dagli uni traendo profitto dagli altri e ciò che permette di distinguerli è precisamente la facoltà di sentire ora da questa facoltà segue l'attitudine a ricercare l'utile e ad approfittare uscire dai pericoli e fuggirli non si possono concepire comportamenti del genere in esseri privi di ogni forma di riflessione di giudizio di attenzione di memoria provate a togliere a un essere vivente ogni capacità di anticipazione di ricordare di tendere verso uno scopo o di prepararsi all'azione toglietegli la speranza la paura il desiderio e la pena i suoi occhi e le sue orecchie se ne ha non gli serviranno a niente certo per lui sarebbe meglio essere totalmente privo di sentimento e di immaginazione che vedersi consegnato alla sofferenza alla contrarietà agli sforzi più penosi in mancanza di un principio capace di offrire vie di uscita traendo partito dall'immaginazione e dal sentimento bisogna essere gente alquanto stupida per affermare che gli animali non provano né piacere né collera né paura che ignorano l'anticipazione e il ricordo secondo questa gente tutto accade come se l'ape avesse memoria come se il leone diventasse collerico come se la cerva avesse paura cosa risponderebbero se dicessimo loro che non vedono e non intendono niente ma che tutto avviene come se essi intendessero e vedessero come se gridassero come se infine vivessero mentre di fatto sono morti quindi in Plutarco c'è una riflessione molto importante che si rifà a Teofrasto e al pensiero di Empedocle che è che è di grande importanza per per noi che non accettiamo l'esistente l'antropocentrismo dunque è falso è fuorviante come era falso il geocentrismo l'idea che la Terra fosse il centro dell'universo era ed è falsa l'idea che l'uomo sia il centro dell'universo la ragione più importante di tutto l'esistente è falso il geocentrismo serviva a giustificare le gerarchie sociali l'infinità dei mondi affermata da Bruno che è il vero filosofo che ha introdotto la cosmologia moderna l'infinità dei mondi ha cancellato le gerarchie sociali e le gerarchie tra esseri viventi non ci sono gerarchie né negli universi né nella nella vita una delle bandiere più agitate dell'antropocentrismo è la definizione della nostra mente come mente altra e separata separata da tutti gli altri ossia quello che si chiama tecnicamente l'isolazionismo cognitivo cioè solo noi conosciamo solo noi abbiamo capacità cognitive la paleoantropologia ci corre in aiuto voi sapete che il Neandertal lo abbiamo ammazzato noi ce lo siamo mangiato il lavoro della paleoantropologia se andate a vedere insomma di che cosa si tratta negli ultimi 50 anni ha fatto passi da gigante i corpi che troviamo sepolti alla bella e meglio sono corpi che hanno tutti un foro in testa perché il sapiens sapiens con la cannuccia succhiava il cervello del Neandertal allora cosa c'entra il Neandertal sì è una cosa interessante perché a cosa appartiene a che tipo di che tipo di essere è è un essere molto interessante a Roma qualche anno fa è stato esposto un flauto che un musicista ha provato a suonare e suonava ancora un flauto trovato in un sito neandertaliano sappiamo che il Neandertal seppellisce i morti tutti in una certa direzione quindi ha una lettura del mondo celeste conosce i quattro punti cardinali sappiamo che la domesticazione del cane è stata fatta dal Neandertal sappiamo che lavora osservando le onoranze nel caso dei i morti che sono seppelliti dai Neandertal i loro morti sono seppelliti tutti in una certa direzione e sono seppelliti in un letto di fiori voi direte non dirmi che hanno trovato il letto di fiori chiaro che no l'analisi del terreno su cui tutti i corpi giacciono rivela un'altissima concentrazione di pollini quindi domesticazione del cane onoranze funebri arte litica cioè abbiamo trovato sculture quindi che razza di bestia è? la paleoantropologia e ripeto costruisce strumenti musicali è stato esposto per un anno a Roma il flauto della tomba del Neandertal che è stato scoperto e mi pare fino all'anno scorso in internet si poteva anche ascoltare come suona quindi la paleoantropologia ci aiuta ci aiuta a capire che l'antropocentrismo era era ed è falso ciò che va dunque affermato è una diversa visione e questa diversa visione non può essere che il biocentrismo al centro della riflessione deve essere l'intero ventaglio della vita la vita in tutta la sua complessità va posta al centro la questione non è solo di carattere pietistico per gli animali o di carattere simbolico ermeneutico ma di comprensione della realtà e quindi di costruire un sapere adeguato ad una più alta civiltà civiltà della conoscenza e della giustizia perché se la conoscenza se i libri non servono a innalzare la civiltà a costruire un'altra vita non serve a niente e quindi la conoscenza negando al mondo animale valore noi ci siamo preclusi la conoscenza della vita nella sua complessità ci siamo preclusi di cogliere la la bellezza della vita dice qualcuno che dall'animale e dalla pianta bisogna imparare che cosa è fiorire e ricominciare da capo per quanto riguarda l'uomo ecco questo è un bel programma noi ci siamo preclusi la conoscenza profonda della vita il delfino per esempio è una creatura che se voi andate un po' a indagare anche in superficie è una creatura che è di molto superiore a noi i delfini in California che si stanno studiando hanno una velocità di calcolo matematico che è impressionante voi dite come fanno nella vasca hanno messo una sorta di grande computer con dei tasti fondamentali e riescono a fare delle operazioni a una velocità impressionante ma il delfino ha anche senza interesse una simpatia per l'uomo come è noto allora il delfino come lo classifichiamo sappiamo che ha un linguaggio molto complesso molto elaborato che stiamo decodificando tanto è vero che molto interessato al linguaggio dei delfini sono le forze armate americane per esempio e non solo quindi non sono diciamo così discussioni sulla metafisica astratta noi abbiamo perso venti secoli ci sono anche dei responsabili abbiamo perso venti secoli e non ci siamo accorti di quelle che anche da un punto di vista cristiano potremmo definire le creature dimenticate ci siamo dimenticati della creazione piccolo particolare una sciocchezza ci siamo dimenticati della complessità della vita Platone scusate incredibile ma vero scrive scrive ci sono state epoche in cui gli uomini avevano grande disponibilità di tempo e potere di stabilire relazioni e conversazioni non solo fra gli uomini ma anche con gli animali e facevano uso di tutte queste condizioni in funzione della filosofia discorrendo appunto fra loro e con gli altri animali e interrogando tutte le specie animate per sapere se una ve ne fosse che per una sua particolare capacità avesse mai potuto conoscere qualche cosa a tutto superiore nel procurare grande apporto al tesoro dell'intelligenza è facile giudizio dire che quelli di allora incommensurabilmente eccelevano per felicità sugli uomini di ora ma anche nel teeteto Platone dice noi dobbiamo indagare il mondo animale perché dobbiamo imparare tantissime cose da questo mondo quindi la questione come capite si allarga e l'animale diventa prezioso per la conoscenza l'antropocentrismo ci ha impedito di cogliere la complessità della vita e ha generato filosofie religioni e politiche ed economie che hanno portato il mondo come dice Jonas sull'orlo dell'abisso il libro della Genesi è molto chiaro Radà e Kabash sono i termini fondamentali ossia dominio e assoggettamento questa dottrina si ritrova in Aristotele si ritrova in San Tommaso dei Conti d'Aquino che è diciamo così la fusione tra il testo biblico e e l'aristotelismo e quest'idea del dominio del sapere che è finalizzato al dominio prima ho detto abbiamo bisogno di innalzare la civiltà abbiamo bisogno di comprendere la vita e quindi abbiamo bisogno di costruire un sapere non per dominare ma per comprendere tutto questo è passato poi in Bacone e in Cartesio Cartesio è un filosofo francese si chiama Descartes un filosofo francese che nel 1637 ha scritto opere molto importanti e Cartesio è quello che ha indicato nell'animale non tanto una struttura vivente che ha memoria che ha sentimenti capacità cognitive eccetera ma che è sostanzialmente una macchina automata usa il termine quindi il cartesianese è stato in qualche modo l'idea di ridurre si parla di riduzionismo cartesiano anche oggi riduce la complessità del vivente a una struttura macchinale ora questa dottrina dell'animale finalizzato all'uomo in Aristotele nel testo biblico in Cartesio qual è l'origine l'origine dell'animale macchina paradossalmente ma poi non tanto paradossalmente magari per i profani ma no si ritrova in Sant'Agostino Sant'Agostino nella lettera ad Evodio perché vi confesso che ho perso tanto tempo a leggere anche questo nella lettera Evodio lui dice che è un vescovo che dice ma ci sono tra noi persone che dicono perché dobbiamo far del male degli esseri viventi eccetera nella lettera Evodio gli dice ma no non devi preoccuparti perché gli animali sono delle macchine di terra l'idea dell'animale macchina passa da Sant'Agostino a Gomez Pereira che è un teologo medico spagnolo del Quattrocento in un'opera che è molto interessante poco nota che si intitola Antoniana Margarita lì teorizza la dottrina dell'animale macchina ancora che poi Cartesio nel Seicento ripeterà qualcuno dirà hai copiato da Gomez Pereira ma lui dirà non è vero ma insomma ricostruendo la questione sta cronologicamente nel modo che ho detto perché ho citato la Bibbia Sant'Ommaso Aristotele e Cartesio perché sono i paradigmi fondamentali della nostra civiltà non citato a caso sono i paradigmi fondamentali della nostra civiltà oggi assistiamo quelli che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire oggi assistiamo al non siamo al pericolo o all'enunciazione siamo alla costatazione del fallimento dei paradigmi culturali che sono stati imposti al mondo ripeto siamo al fallimento dei paradigmi culturali che sono stati imposti fallimento alla costatazione del fallimento fallimento tragico non drammatico drammatico in quanto drasi si implica un risultato qui siamo all'annientamento questi paradigmi culturali hanno imposto la desertificazione dei giardini dell'intelligenza il fiume della sapienza è stato bevuto a sabbia possiamo dire così e il futuro dell'umanità sembra oggi palesarsi come un volto di sabbia il ventunesimo secolo il nostro che dopo tante lotte ha prodotto una maggiore consapevolezza e l'importanza del biocentrismo e quindi una maggiore attenzione all'insieme della vita rischia di essere il secolo della distruzione totale della biodiversità non voglio addentrarmi in questioni filosofiche e quindi parlerò terra a terra 150 anni fa perdevamo una specie ogni secolo oggi oggi da 30 anni ne perdiamo 27 mila l'anno tre ogni ora è in corso la più grande estinzione di massa dagli ultimi 50 milioni di anni 50 milioni di anni fa è accaduta una cosa straordinaria un grande meteorite ha colpito la terra è caduto in Messico lo Yucatan ha creato una catastrofe il sole non poteva più entrare nella terra sono morti i dinosauri è stata una sorta di apocalisse abbiamo perso in quell'occasione il 50% della vita sulla terra oggi il meteorite siamo noi siamo noi per cui è strano quello che accade ha una maggiore consapevolezza dell'importanza della vita e del valore della vita c'è il rischio concreto che sia anche ormai inutile ha vinto la ragione strumentale quella che Orkheimer chiama la strumentelle vernuft cioè la ragione cartesiana aristotelica eccetera cioè cosa la ragione strumentale per ridurre all'osso è quella che è interessata all'efficienza dei mezzi che la macchina funzioni ma non alla razionalità degli scopi allora il sapere che è stato costruito è un sapere che si occupa dell'efficienza del mezzo ma non della razionalità dello scopo il mio scopo è quello di fare un'industria eccetera che produca qualcosa se poi muoiono un milione di persone grazie all'inquinamento è un problema che non mi riguarda questa è la ragione strumentale la strumentale l'efficienza l'efficienza dei mezzi ma non la razionalità degli scopi che il nostro mondo sia un mondo razionale si può dire solo per burla e qui entriamo in una questione un'altra questione molto seria che è la narcotica autoreferenzialità della tecnica narcotica autoreferenzialità della tecnica che ha generato un sapere che impone al mondo gli incubi della propria inesperienza io faccio la macchinetta se poi questa distruggerà il mondo ti rovinerà la salute e beh non lo sapevo per fare un altro esempio per farvi capire che cosa significa ragione strumentale sulle Alpi si trovano uomini morti 7000 anni fa siamo passati a ghiacciai che sono in uno stato di fusione Corriere della Sera quattro anni fa l'ho tenuto perché le idee geniali vanno conservate titolava bellissima notizia ai poli si può passare da una parte all'altra si risparmiano un sacco di soldi ebbene sì l'artico è in uno stato di fusione di fusione novembre scorso è stato misurato meno un grado dovrebbe essere meno 28 ora poiché i poli funzionano da termoregolatori non dobbiamo stupirci di quello che accade sul piano climatico e quello che accadrà perché quello che accadrà è una cosa che ormai sanno anche i bambini i mari si alzeranno come stanno facendo il Po avete sentito perfino la televisione di Stato ci ha detto che l'acqua del mare entra per 25 chilometri sul Po questo significa che alzare l'acqua del mare se l'acqua del mare si innalza significa che l'acqua salata entra nei fiumi vuol dire che non posso più fare agricoltura perché non posso annazziare le piante con l'acqua salata quindi ecco se voi chiedete agli uomini della tecnica che sono pronti a fare qualsiasi cosa per un piatto di lenticchie se voi chiedete perché non lo sapevamo ecco per esempio una cosa che non sapevamo è che i poli si stanno fondendo a una velocità che è cento volte superiori alle peggiori previsioni pessimistiche che siano che siano state fatte ripeto i poli si stanno fondendo a una velocità tale che sono cento volte superiori alle peggiori previsioni pessimistiche lo scenario presente quindi è uno scenario di cui bisogna avere consapevolezza dicevo prima che la comunità buddista non deve lasciare la bandiera di riflessione sul mondo della vita e di salvaguardia del mondo a chi lo ha distrutto ma devono prenderla loro in mano questa bandiera perché ne hanno tutte le diciamo così le le qualità le caratteristiche insomma negli ultimi 800 mila anni la qualità di anidride carbonica ha oscillato tra i 70 e i 180 fonte Enea non sono né verdi né buddisti questi è l'Enea tra i 70 e i 180 microgrammi per metro cubo d'aria oggi è a 450 poi si dice ci sono gli aumenti le malattie del cuore eccetera i polmoni le barriere coralline il 70% delle barriere coralline stanno morendo per acidificazione degli oceani l'aumento di CO2 in atmosfera si dissolve nel mare sotto forma di acido carbonico rendendo acide le acque ciò indebolisce lo scheletro dei pesci e fa fatica a formarsi il fitoplancton e i coralli dipendono dall'aragonite che è simile al carbonato di calcio per cui la morte delle barriere coralline significa per esempio cito un dato che non è né ecologista né verde né filosofico eccetera è la banca mondiale banca mondiale dice che nei prossimi 15 anni ci saranno almeno 200 milioni di persone che devono lasciare le barriere coralline dove vivono e si riverseranno all'interno creando enormi conflitti e problemi di ordine etnico politico economico eccetera a questo possiamo aggiungere un'altra perla deforestazione 180 mila chilometri quadrati di foreste tagliate l'anno grosso modo tutta l'Inghilterra aggiungo che molti fiumi non arrivano più al mare come saprete il Colorado piccolo fiume di 1200 chilometri più grande fiume degli Stati Uniti non arriva più al mare da 12 anni il Giordano dove si dice si sia bagnato Gesù Cristo non arriva più al mare per sette mesi l'anno il lago Chad si è ridotto del 90% 90% in dieci anni questo è il quadro ora è il quadro diciamo così oggettivo della del mondo fisico della biosfera sotto ci sono gli animali per quanto riguarda l'Africa per esempio nel 1910 c'erano 28 milioni di elefanti 5 milioni nel 1930 nel 2016 il convegno che è stato fatto a Johannesburg sono rimasti 350 mila ma il ritmo di uccisione è di 30 mila l'anno circa quindi fra dieci anni li vedremo impagliati leoni ne sono rimasti 35 mila a tutto questo potremmo i mari i mari sono sempre più vuoti di pesci e non so se qualcuno di voi vive fuori Milano e guarda fuori dalla finestra i cieli sono sempre più vuoti di uccelli io ricordo da ragazzo penso a tutti si vedevano stormi interi dove sono a questo possiamo aggiungere alleviamo e abbattiamo 65 miliardi di animali l'anno cosa significa dal punto di vista etico significa che questi esseri sono destinati alla morte ancora prima ad essere nati possiamo menare il camperlaia come vogliamo non c'è giustificazione non c'è nessuna giustificazione ciò dovrebbe rendere evidente dunque la necessità di lavorare per innalzare la civiltà rifondare l'etica quindi l'ordine del mondo abbandonare la logica degli apolidi del denaro e degli intellettuali in servizio permanente effettivo che si vendono per un piatto di lenticchie per quanto riguarda l'uomo poi siamo l'ultima generazione non modificata geneticamente anche questo non dico niente di straordinario è pura oggettività non so se voi avete presente che cosa ha in mente la Novartis e che cosa qual è il grande progetto per esempio in Germania con il filosofo Slotershek il progetto che si sta portando avanti di costruire una sorta di super uomo biologico insomma tutti questi bei regali sono il frutto della ragione strumentale sono il frutto di paradigmi culturali falsi innalzare la civiltà era il progetto anche originario nel VI secolo giamblico voi sapete che di Pitagora noi abbiamo tre fonti uno è giamblico l'altro è Porfirio l'altro è Diogene e Laerzio sono le tre vite fondamentali di Pitagora giamblico spiega perché Pitagora proibiva di cibarsi degli animali ma addirittura proibiva di avvicinarsi ai cacciatori e ai macellai per ragioni religiose Pitagora dice sono circondati dai demoni della morte e questo dicono anche gli oracoli caldeis poi abbiamo tempo spiegherò meglio allora dice giamblico Pitagora imponeva di astenersi dagli animali perché questa consuetudine favorisce è la pace una volta che gli uomini si fossero abituati a detestare l'uccisione degli animali come illecito e contro natura avrebbero reputato a maggior ragione più empio uccidere un proprio simile e così non ci sarebbero più state guerre la Jursenal fa una considerazione analoga e anche Plutarchus secondo me se ne aveva letto Plutarchus e applica questo ragionamento a qualcosa di tremendo che in Europa abbiamo vissuto mi riferisco ai vagoni piombati del 43 e 44 e dice se gli uomini fossero stati abituati in Europa l'Europa cristiana oggi diciamo dei diritti dell'uovo eccetera se se gli uomini fossero stati abituati ad avere compassione dei cavalli che fanno chilometri in treno delle mucche che si spezzano le gambe e nessuno da avere a questi esseri se gli uomini fossero stati abituati ad avere compassione di questo nessuno neanche i soldati addetti alla scorta avrebbe sopportato i treni che portavano gli uomini ad Auschwitz Birkenau a Treblinka a Mauthausen quindi la questione come vedete è una questione molto importante l'animale è straordinariamente buono da pensare perché illumina tutta la nostra civiltà o meglio illumina il non senso della nostra civiltà dicevo prima che io mi sono occupato di Teofrasto che nessuno ha pubblicato in 23 secoli il trattato della pietà perché Teofrasto in questo trattato difende appunto il mondo animale e in quest'opera contesta implicitamente l'aristotelismo Teofrasto insegnava al liceo di Aristotele ma rompe con il maestro allora dicevo al vostro lama che ad Aika Nun Afghanistan la scuola archeologica francese ha scoperto tra il 68 e il 75 ha fatto delle scoperte straordinarie e cioè ha scoperto accanto a nuove colonne steli della pace di Ahsoka Soka è l'unificatore dell'India terzo secolo ha scoperto l'ambasciata greca ha scoperto le scuole greche i nomi degli ambasciatori greci che erano lì qui siamo al periodo immediatamente successivo ad Alessandro Magno e allora gli editi di Ahsoka anche dal punto di vista lessicale riprendono il trattato sulla pietà di Teofrasto che è stato nel dimenticatoio perché evidentemente dà fastidio all'impianto aristotelico tomistico eccetera è un trattato straordinario e dicevo prima nel terzo secolo dunque con Ahsoka e con Teofrasto abbiamo corso il rischio di salvarci cioè di mettere insieme la più alta cultura greca con la più alta cultura d'Oriente voi direte ma siamo sicuri sì siamo sicuri sono state scoperte è stata è stata fatta un'altra scoperta straordinaria a Delphi come sapete è una città sacra a Delphi erano iscritte nella città erano scolpite sulle mura c'erano delle iscrizioni ne sono state contate più di 150 iscrizioni morali che servono come idea regolativa come comportarci eccetera mentre noi abbiamo non so bevi coca cola compra questo compra quell'altro queste iscrizioni ad Elphi sono state ritrovate identiche ad Aicanola Ialenco che è uno studioso ne ha fatto un saggio elencato con le fotografie con queste iscrizioni di Aicanola ora questo cosa significa significa quello che ho detto e cioè che vi era una grande idea nel momento in cui si tentava di salvare la civiltà la grande idea era di mettere insieme la saggezza l'eticità l'onestà la bontà d'Oriente e d'Occidente la prova di questo è appunto l'edificazione nuova della città di Aicanon con le iscrizioni delfiche ve ne leggo alcune perché merita benedici tutti un'altra acquisissi la conoscenza studiando un'altra dopo aver sentito rifletti conosci te stesso e ancora non fare morire esseri viventi e ancora astieniti dall'intemperanza dominati e ancora esercitati ad avere una grande anima abbi cura dei figli abbi pietà dello sventurato abborrisci la calunnia sii generoso agisci con giustizia allora questi sono alcune delle manifesti pubblicitari ad elfi che sono stati ritrovati scolpiti in greco e in sanscrito ad Aicanon non so se avete presente gli editti di Ashoka ma gli editti di Ashoka ripetono di fatto anche dal punto di vista lessicale il trattato di Teofrasto di Perius e Beias sulla pietà e quindi il motivo per cui io mi sono occupato di di mettere insieme i frammenti del trattato sulla pietà di Teofrasto non era non è un motivo come avrete capito così per mostrare che ci sono riuscito insomma non mi interessa il motivo per cui mi occupo mi sono occupato di Plutarco e c'è un motivo di servizio e cioè riprendiamo le fila di questo discorso profondo antico no carsico e mettiamo insieme la più alta cultura dell'Oriente con l'Occidente e facciamo barriera perché è giusto fare barriera non si può fare il bene senza offendere il male non si può fare il bene senza offendere il male e allora la bandiera etica religiosa sacra della difesa della vita va messa nelle mani che meritano di portarla quelli che invece giocano alla alla difesa del mondo che si sta sfasciando come se chi è stato nessuno beh insomma bisogna lasciarli un po' da parte e mettere le cose in ordine perché altrimenti non abbiamo cognizione di quello che si è fatto e di quello che è necessario fare cioè cosa è necessario fare è necessaria consapevolezza è necessario conoscenza bisogna fare un ampio lavoro di ricostruzione di tutto il lascito del pensiero filosofico dall'antichità ai nostri giorni per poter vivere come se ci fosse una soluzione quindi oggi che viviamo nell'età del non senso nell'era del vuoto e delle nuove schiavitù imposte dagli apolidi del denaro dobbiamo capire che la questione animale non è una questione da animalisti infatti ho sempre detto in questi ultimi trent'anni non è una questione di essere animalisti o meno è come se noi fossimo messaggeri di una grande idea ci mettessimo da soli nel ghetto nel ghetto degli animalisti che poi diventa il ghetto delle gattare queste povere donne sole abbandonate che portano da mangiare i gatti non sanno non hanno altro da fare no? ecco beh l'animalismo è utile come primo gradino ma bisogna salire il vegetarianesimo è un primo gradino ma bisogna salire intanto di fatto è una rivoluzione etica non so cosa guadagnate voi questa domenica a venire qua questi esseri che si dice non possono ricambiarci no ecco lo facciamo senza avere nulla in cambio e questa è una grande cosa diceva un filosofo greco è più bello donare che ricevere no? e se questa non è una rivoluzione straordinaria cos'è? uomini che si muovono per difendere gli ultimi gratuitamente generosamente dice qua sii generoso no? e agisci con giustizia bene quindi il movimento animalista benissimo io lo conosco abbastanza bene insomma però dico sempre bisogna salire perché la questione è di enorme importanza enorme è un problema riassumendo di carattere conoscitivo è un problema etico enorme ed è ciò che dà senso alla nostra vita dice qualcuno il nostro pensiero deve avere la fragranza odorosa dei campi di grano nelle sere d'estate ecco il modello è questo però bisogna lavorare non so se si possa salvare la civiltà quantomeno per rallentarne la caduta e quindi la questione animale è una questione di enorme importanza enorme importanza se avrete la pazienza di leggere il trattato del mangiar carne e questo libro di Plutarco e il Teofrasto capirete meglio che cosa significa lavorare per innalzare la civiltà concludo con una cosetta che mi sta a cuore leggo sulla rivista dell'Opus Dei Studi Cattolici un articolo di un tale che si chiama Sandro Gindro che deve essere un pensatore notevole allora dice qua non soltanto in sede psicologica o psicoanalitica è facile osservare come frequentemente persone che si dichiarano rigorosamente vegetariane che guardano con orrore al consumo alimentare di qualunque tipo di carne animale si rivelino straordinariamente violente di una violenza che se qualche volta è solo implicita si rivela in molti casi in modo esplicito e clamoroso sono rissosi vengono alle mani picchiano i bambini sono preda di improvvise crisi di rabbia aggressiva guardano il mondo con diffidenza come se temessero da ogni parte di essere aggrediti sembrano inoltre questo è meraviglioso gradevolmente affascinati da spettacoli di violenza e di morte sono gli educatori peggiori di rado infatti sono capaci di slanci di affetto sincero tanto sono i rigiditi nella difesa appagati della sofferenza dell'altro che vogliono punire per colpe immaginarie eccetera eccetera meraviglioso ma questo è lo stato dell'arte mi fermo direi che oltre che ringrazio voi dovete partire dovete andare quelli che devono prendere il treno voi dovete andare avete un treno da prendere io stavo chiedendo appunto che ora mi consiglia di partire già alle 7 o 4 vabbè se vuoi puoi andare non c'è nessun problema volevo ringraziare il professore e no beh ma c'è una voce grossa io resisto dato che c'è si usa ringrazio il professore dicendo anche magari non le interessa ma che sono totalmente d'accordo con quello che ha detto anzi mi piace anche il modo che ha di farlo capire trasmetterlo spero di avere l'occasione veramente di riascoltarla o siccome so che è di Padova se vuoi venire a trovarsi per un tè al tempio in via a Mannati sarei veramente felice e ho una sola domanda ma solo per curiosità prima di partire diceva all'inizio appunto che il buddismo è una delle due che salva o che si salva quelle importanti sì 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 e e questo ovviamente mi fa piacere sapere che almeno ci siamo anche noi in questa lista però diceva più il Mahayana in che senso? nel senso che vi è uno rancio per la salvezza per la salvezza per la questione della scelta diciamo della figura del bodhisattva esatto ah ok ma non dal punto di vista diciamo dottrinale non ha trovato maggiori spunti sul messaggio della di è una particolare attenzione e cura nei confronti degli esseri viventi e quindi è un buon punto di partenza a mio giudizio sì sono d'accordo anche se devo dire che il Tera Vada in realtà fa la stessa cosa solo che probabilmente non vengono approfonditi i testi canonici comunque è interessante perché si riallaccia moltissimo al nostro incontro di un mese fa circa dove appunto abbiamo elencato anche tutti tutti i riferimenti canonici dove il Buddha chiaramente al di là che qualcuno possa inventarsi a dire non è chiaro invece lo è come è sempre stato lo dice insomma ecco e parla anche proprio di questa questione che gli animali tutti gli animali desiderano vivere quindi quindi era solo una curiosità sì sì io direi che c'è un punto interessante oltre a tutti gli spunti che ha dato e che potrete trovare nei libri che sono lei vendita tra l'altro devo dire che non so a che prezzo vendete quei libri ah sì chiediamolo a lei che è allora voi sapete che là sul tavolo ci sono diversi libri scritti al professore su questi argomenti che hanno certamente un prezzo di copertina molto più elevato ma che gentilmente il professore ha ceduto al centro che può venderle a un prezzo di 10 euro quindi io vi inviterei alla fine adesso non precipitatevi perché tanto dobbiamo ancora finire però se avete un interesse anche soltanto legato al piacere della lettura e all'approfondimento di questi argomenti sapete che c'è l'opportunità di farlo a queste condizioni economiche che sono eccezionali il professore diceva dobbiamo andare oltre e questo mi ricorda il discorso che il Buddha fece ad Angurimala che era nel Magima Mikai nel Magima Mikai viene citato questo rapporto del Buddha con questo brigante il quale uccideva e faceva collezioni di dita forse ve l'ho già raccontato più volte le condanne delle dita delle persone uccise quindi era veramente un truce ma incontrò il Buddha e alla fine si convertì e questo può essere senza altro edificante ma il Buddha gli disse qualche cosa che richiama molto quella del professore disse Angurimala tu forse hai capito e ti comporti in modo corretto con la dottrina che gli ho trasmesso ma io sono andato oltre quindi noi dobbiamo andare oltre questi concetti effettivamente non tanto perché abbiamo capito il discorso ma quanto perché siamo consapevoli in quanto praticanti buddhisti noi siamo quelli che devono portare la bandiera lui ci ha sollecitato ha detto voi siete quelli che possono portare la bandiera bene noi intanto lo stiamo già facendo perché stiamo promuovendo questo tipo di conferenze proprio per iniziare questo discorso e portarlo avanti ma non dobbiamo assolutamente dimenticare e con questo invito tutti quelli che si professano buddhisti qui in questo momento non dobbiamo dimenticare che il Buddha ha dato queste indicazioni proprio in riferimento al fatto che non si devono uccidere gli esseri viventi esseri viventi non ha detto né uomini né animali tutto il vivente il discorso del Buddha diceva proprio no chi rispetta la nostra tradizione non deve uccidere il vivente non deve approvare l'uccisione del vivente e non deve causare l'occasione del vivente quindi non era l'uomo al centro ma era la vita e quindi noi dobbiamo andare ben oltre siamo qua per parlare degli animali certo abbiamo tutti degli animali che abbiamo visti li amiamo tutto quello che volete noi però dobbiamo imparare a rispettare la vita questo è estremamente più profondo estremamente più esteso estremamente più allargato in un momento in cui non so si creano queste nuove correnti filosofiche che ci poi voglio anche fare una domanda al professore no che parlano di altri concetti che sono dei concetti che vanno ben oltre la questione della presenza degli esseri sulla terra ma di come questi percepiscono reagiscono e affrontano questa presenza però dobbiamo anche sapere che la nostra diciamo attività deve essere orientata su un livello di base molto più basso se non andiamo a fare i profondi filosofi oppure gli estremisti del veganismo ma dobbiamo renderci conto che qualsiasi gesto noi possiamo fare per preservare la vita è un gesto importante noi abbiamo dimenticato forse che il Buddha diceva che è più importante impedire a un essere di soffrire cioè eliminare la sofferenza di un essere e qui i miei amici monaci adesso se non si ricordano queste frasi sombalzeranno dalla sedia è più importante aiutare un essere vivente a non soffrire piuttosto che restare seduti a contemplare i mali dell'universo pregando in compagnia dei monaci impariamo a fare impariamo a fare questo è estremamente importante perché ogni vita giustamente ha un valore in sé e questo mi sembra che sia una considerazione che bisogna fare oggi abbiamo parlato abbastanza degli animali abbiamo parlato molto della storia e della loro diciamo dimensione all'interno del pensiero filosofico occidentale però in particolare abbiamo parlato della vita è il vivente che deve essere rispettato è il vivente che deve essere preservato e dunque questa è una riflessione su cui dobbiamo senza altro incentrare la nostra attenzione prossimamente e prima di dare la parola a Marina che ha alzato il dito e che io ho visto e che ho notato se vuoi fare una domanda vorrei chiedere al professore che ha detto delle cose estremamente interessanti che saranno anche oggetto delle mie ricerche cioè io ho preso spunto da quello che lui dice per approfondire per la conoscenza voglio andare più avanti ecco come diceva il Bund andare oltre voglio approfondire e il professore mi ha dato degli spunti spero che li abilate anche voi ciò di cui non abbiamo parlato e che è successo già il mese scorso abbiamo fatto una tavola rotonda interreligiosa tutti hanno parlato in maniera edificante di quello che le loro religioni dicono a proposito di animali ma non degli atteggiamenti che il praticante deve avere hanno raccontato le favolette i musulmani ci hanno letto le loro storielle i cristiani ci hanno letto gli animali sembrava di farci raccontare delle fiabe da parte della mamma prima di addormentarci quando eravamo bambini però nessuno ha affrontato il tema della coscienza e che io credo sia un tema estremamente importante vogliamo definire la coscienza vogliamo definire l'anima questo non è importante è importante capire se effettivamente esiste una energia e questo è il concetto della coscienza nel buddismo se noi dobbiamo andare a vedere no? la quale a un certo punto si trasferisce non si distrugge secondo principio della termodinamica nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma e questo è il principio della trasmigrazione del continuo mentale allora su questa base il professore che cosa ci può dire cioè cosa non ha affrontato il tema della coscienza allora la coscienza è anche consapevolezza di sé tanto gli studi fatti da Primac per esempio sulle scimmie con le quali condividiamo il 98,6% del nostro patrimonio genetico hanno dimostrato che la barriera che c'è tra loro e noi è una barriera di carta nel senso che la loro difficoltà ad esprimersi deriva da una conformazione anatomica diversa della nostra allora cosa hanno pensato Primac io non so se hanno letto Leopardi ma Leopardi si è lo zibadone nella disertazione sopra l'anima delle bestie che è un'operetta giovanile ma molto interessante perché il ragazzo era attrezzato bene insomma dice anche in un altro lavoro che è la lettera a un giovane del ventesimo secolo che non si fa non si legge a scuola eccetera dice che verrà il giorno in cui noi potremmo parlare con per esempio alcune scimmie superiori utilizzando dice Leopardi il linguaggio dei sordomuti e infatti è stato quello che Primac e Goodall hanno fatto hanno insegnato i gesti il linguaggio dei sordomuti alle scimmie nei laboratori negli Stati Uniti questo è un lavoro che risale a un diciotto anni fa e hanno diciamo così tolto la barriera del linguaggio per cui la mamma scimmia che partorisce è preoccupata attraverso i segni che ha imparato del linguaggio dei sordomuti del suo bambino perché non mangia perché non si muove oppure addirittura dice io ho da mangiare oggi preferirei questo piuttosto che quell'altro oggi sono triste oggi sono particolarmente preoccupata eccetera eccetera il comportamento il linguaggio diciamo così che è stato trascritto pubblicato in Italia per esempio c'è il libro che è intitolato Coco è la scimmia Coco cioè ci sono i diciamo così i verbali del dialogo e quindi questo è molto interessante voglio dire questi animali hanno una coscienza sono consapevoli di loro stessi sono consapevoli dei loro piccoli hanno un pensiero manifestano la tristezza dicono sono triste oggi no eccetera sì la stessa cosa vale per i delfini sto parlando non sto dicendo queste cose diciamo come fonte scientifica non sto facendo una narrazione ecco la stessa cosa vale per i delfini questo è assolutamente certo ma Montaigne filosofo francese del cinquecento molto interessante di cui potrete leggere pagine importanti nei filosofi animali Montaigne fa un'osservazione che io ho sempre trovato interessante se i cavalli non avessero coscienza di sé intelligenza memoria eccetera perché mai gli uomini si sarebbero affidati ai cavalli negli furibondi scontri della guerra io non posso qui si tratta di arte militare non posso menare il camperlaia devo avere la assoluta certezza del comportamento del cavallo cioè devo essere sicuro che il cavallo capisce che non è al circo ma è nel pieno della battaglia e quindi significa che ha consapevolezza di sé terresto Wittgenstein il filosofo austriaco diceva che la coscienza nell'animale c'è è sufficiente che io chiami il cane con il suo nome perché venga da te ma vorrei aggiungere poi una cosa che scrive Plutarco che ha ricavato da Eresidemo allora Plutarco riporta questa osservazione sui cani per valutare la loro intelligenza e dice ogni cacciatore sa che quando il cane si trova in un trivio e sta inseguendo una lepre un animale no annusa sempre la ci sono tre viottoli in uno dei tre è passato l'animale che devo prendere o l'uomo che devo azzattare eccetera l'animale annusa sempre qualsiasi cacciatore lo sa annusa sempre il primo annusa sempre il secondo non annusa mai il terzo questo in logica si chiama quinto sillogismo indimostrabile cioè il ragionamento del cane rapidissimo è o è passato di qua o è passato di qua ma poiché non è passato né qua né qua allora non c'è ragione che io annusi nuovamente perché è passato sicuramente da questa parte questo è un chiaro indizio dice Plutarco sulla base di Enesidebo e Crisippo eccetera eccetera adesso non vi sto facendo è indizio che il cane è in grado di usare il quinto sillogismo indimostrabile e quindi significa che diciamo così il cane il cavallo il delfino le mucche che sono al matatoio quando sono intruppate se andate a vedere potrebbe essere un'esperienza utile una dietro l'altra se voi guardate a meno che uno sia diciamo così incapace di capire capiscono subito cosa sta succedendo sono consapevoli di sé e sono consapevoli del momento tremendo della morte che li attende allora potremmo fare tanti altri esempi io non lo so se vi siano delle forme di coscienza che restano ma non la filosofia non la metafisica ma una lunghissima sperimentazione di trent'anni ci testimonia che gli animali hanno coscienza di sé stessi hanno memoria intelligenza capacità di difendersi coraggio altruismo ed esercitano anche la giustizia ovviamente Plutarco poi fa anche un'altra interessante ringrazio della domanda fa anche un'altra interessante considerazione dice noi non dobbiamo considerare tutti gli esseri viventi allo stesso livello di coscienza o di intelligenza del resto quante volte noi ci siamo fermati a guardare un tramonto e quanta fatica facciamo anzi è impossibile a distinguere arrivederci si faccia sentire mi faccio dare il numero arrivederci è pronto quanto è difficile distinguere tirare una linea netta tra la luce che scompare e l'oscurità che avanza dice Plutarco noi non diciamo poiché il colombo vola più veloce della farfalla che la farfalla non sa volare e neppure diciamo il colombo non sa volare perché lo sparviero vola più veloce del colombo quindi vi sono vi è una gradazione nel sistema vita e quindi evidentemente e probabilmente ci saranno dei livelli di coscienza diversi quanti uomini abbiamo incontrato che hanno meno coscienza di un cane e di un cavallo e che sono più ingiusti e più feroci ecco allora questa lettura di Plutarco diciamo così di un ventaglio della vita con sfumature diverse mi pare possa essere una buona risposta ci sono livelli di coscienza diversi anche tra gli uomini tanto è vero che anche noi abbiamo bisogno di studiare di salire ogni giorno no? e quindi credo che se vi sono delle energie e che riescono con uno sforzo di volontà a trasmettersi questo è possibilissimo è attestato da molte scuole filosofiche Empedocle per esempio che è un filosofo neopitagorico del quinto secolo avanti Cristo su questo è assolutamente convinto Marina allora più che altro intanto grazie tantissimo professore perché ci ha dato veramente tanti stimoli su cui riflettere io devo portare assolutamente questo messaggio perché se esistono le sincronicità junghiane mi sono capitate oggi quindi è successo questo piccolo episodio che mi fa veramente pensare sono andata col mio cane ai giardini pubblici per camminare prima di venire qui incontro due amici che erano seduti con un libro che è stato presentato oggi al parenti che si chiama Salvarsi io dovevo andare non sono andata a leggere alla presentazione che ha scritto la Liliana Picciotto Fargeon li saluto ci abbracciamo come va che bella giornata che bel sole cosa state leggendo a questo libro e questo mio amico signore dice sto leggendo questa storia di uno che si è salvato e citta gli animali e io dico chiaramente stiamo parlando dell'olocausto sincronicità io dico ma chi è questo qualcuno Rav Laras il capo rabbino di Milano e di tutto il nord Italia che è appena mancato un grandissimo personaggio bene io mi faccio fotografare sul telefonino questo passaggio brevissimo che vi vorrei leggere perché è incredibile premetto il Rav Laras quando aveva nove anni viveva a Milano una portinaia ha denunciato la famiglia che erano ebrei quindi gli hanno sono venuti subito i soldati gli hanno prelevati e il bambino è stato separato dai genitori e mandato salvati corri e scappa ero un bambino di nove anni ero un bambino di nove anni che correva solo e disperato per la città una volta arrivato ansante e trafelato nella casa indicatomi dalla mamma non ricordo che cosa successe dopo ho un vuoto di memoria quelle persone l'indomani mi portarono a Casalborgone dove erano i miei nonni paterni con mia sorella là ci furono scene di disperazioni terribili poi fecero avvertire mio padre che non si dette pace ero in campagna in una cascina era ottobre e rimanemmo lì fino ai primi di maggio ero innebetito mi mancava la mia mamma ma mi trovavo bene facevo il contadino mi ricordo gli animali ero arrivato nel periodo della vendemmia non parlavo più questo durò due mesi e mezzo poi mi sbloccai da solo ho ancora delle fotografie di me con gli animali è vero gli animali aiutano molto penso che sia stata la vicinanza con loro che mi ha sbloccato perfetto qualche domanda volevo rubare un minuto perché il nostro amico è il famoso signore che gentilmente ci ha mandato quei raccontini sugli animali che avevamo promesso di leggere è uno scrittore non abbiamo il tempo e non possiamo rubarne altro ma ci impegneremo a diffonderli magari me li rimandi così li diffondiamo tra di noi e li leggeremo grazie comunque io volevo sapere una domanda piccola bene intanto volevo ringraziare il professore dell'intervento splendido e molto toccante e di cui anche condivido completamente per quello che può insomma essere importante la critica filosofica alla ragione strumentale una delle tragedie per le quali siamo dove siamo e lei ha citato Leopardi io sto riflettendo è il mio maestro il mio autore da quando sono ragazzino sulla presenza degli animali nella commedia di Dante e essi sono presenti fin dal primo canto le famose tre fiere ci sono più animali che esseri umani nel primo canto c'è anche un cane da caccia e tutto il cammino del poeta sarà proprio legato anche a a come imparare a come dire a vivere con questi animali che sono presenti fin dal primo canto e poi la prima parola in rima è vita il mezzo nel cammino di nostra vita e nella Epistola Can Grande Dante dice che lo scopo della commedia è rimovere viventes in ac vita de statu miserie non omines i viventi e per cui la ringrazio non è una domanda è una risonanza di cui però veramente la ringrazio di cuore è reciproco la mia domanda è una piccolissima che cosa dice Plutarco in quel trattato che ha citato sul mangia carne in due parole ovviamente due parole facciamo otto allora ci sono tre motivi indicati da Plutarco che indica indica tre motivi per per non mangiare carne leggo qui l'apertura tu chiedi per quale ragione Pitagora si astenesse dal mangiare carne io invece mi chiedo stupito con quale sentimento con quale stato d'animo o in base a quale ragionamento il primo uomo abbia toccato con la bocca ciò che era frutto di un assassino abbia accostato alle labbra la carne di un animale morto e poste dinanzi a sé tavole di corpi morti e corrotti abbia chiamato pietanza e nutrimento quelle parti che poco prima muggivano e mettevano voci si muovevano vedevano il mondo come riuscì la sua vista a sopportare l'uccisione di animali sgozzati scorticati fatti a pezzi come tollerò il suo olfatto le esalazioni come non dissuase il palato la contaminazione quando egli toccò piaghe di altri esseri ricevendo umori e sieri putrefatti di ferite mortali prima si cominciò con l'uccidere gli animali selvatici poi fu dilaniato un uccello o un pesce cosicché in temperanza e in giustizia dilagarono sempre più fino a uccidere il bue il nostro operaio la pecora che ci veste il gallo guardiano della nostra casa e così poco a poco si pervenne al sangue agli omicidi alle guerre ci sono tre motivi che sono indicati da Plutarco il primo motivo è religioso lui è consacrato ad Apollo e a Dioniso non so se lo sapete ma gli archeologi hanno trovato ad Elfi anche una statuetta di Buddha il che vuol dire che vi era uno scambio molto interessante ma lasciamo stare allora il motivo religioso è che sulla base degli oracoli caldei di cui esiste un'edizione belletra greco-francese la oh scusi ho rotto il non c'è parola allora il 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 sangue il sacrificio di sangue questo credo sia un segreto per nessuno e su questo insiste anche Plutarco e Teofrasto e anche Pitagora Pitagora offriva sacrifici di pasticcini di mandorle dietro all'altare Ceratinos ad Atene questo è testimoniato da Aristotele che non è un pitagorico nella costituzione degli Atenesi perché perché la la credenza se volete era che sulla base degli oracoli caldei e anche degli Epimenide eccetera la credenza era questa che il sangue il sacrificio di sangue serve per alimentare i demoni della morte nella nella lettura religiosa greca stiamo parlando del i greci non hanno una religione unitaria non hanno un testo canonico no diciamo così per capirci c'è una religione alta che è quella che fa capo al pitagorismo e c'è una religione bassa che è la religione istituzionale popolare allora la religione istituzionale significa una religione che sacrifica i demoni perché avendo questi natura pneumatica si nutrono dei vapori del sangue che esce caldo dal collo dell'animale sgozzato quindi mette in comunicazione il sangue che cade mette in comunicazione le energie ctonie cioè sotterranee con il sacrificatore mentre il allora bisogna scusatemi se vi rompo ma il termine sacrificio simian simiatera deriva dal da una parola che ha dato il nome al timo che è una piantina che credo qualcuno usi ancora in cucina il timo era appunto quello che si sacrificava originariamente dice spiega dice arco che è un altro che troverete tracce allora il timo serve insieme con i pasticcini di mandorle eccetera ad avvicinare insomma i profumi comunicano con eudia comunicano con il divino comunicano con le potenze positive mentre il sangue comunica con le potenze negative ctonie sotterranee irrazionali le furie insomma quindi nel pensiero greco la logica del sacrificio obbedisce a una logica alto-basso i profumi ci mettono in comunicazione con ciò che è il bene il sangue è un il sacrificio di sangue è un sacrificio per i demoni la stessa cosa si ritrova anche nella teosofia egizia infatti se voi leggete di Plutarco il Deiside e Tosiride è molto interessante che il titolo Metaiside e dopo Osiride ma lì è spiegato che nel mondo nella teosofia alta perché anche lì c'è una distinzione egizia ci sono due tipi di sacrifici sacrifici con i profumi e i sacrifici quando le cose andavano male c'erano delle guerre eccetera per angustiare Tifonset cioè le forze del disordine del caos eccetera il fatto che Plutarco abbia studiato ad Alessandria in Egitto e abbia parlato con i sacerdoti non è solo una questione di carattere biografico allora il motivo religioso è il sacrificio di sangue le carni e il sangue eccetera si mettono in comunicazione con i demoni della morte il secondo motivo è di carattere salutare le carni dice Plutarco producono delle malattie all'intestino provocano il cancro appesantiscono lo spirito noi non abbiamo questa è una cosa interessante che sarà ripresa da Rousseau c'è Jacques Rousseau il filosofo ginevrino poi il naturalizzato francese nel suo trattato sull'origine dell'eguaglianza nelle note mi pare sia nota E una nota lunghissima eccetera lui sicuramente ha letto Plutarco perché dice quello che Plutarco scrive e cioè che tutti gli animali che hanno i denti piatti davanti sono fondamentalmente erbivoli erbivoli il cavallo la capra eccetera noi siamo animali con i denti piatti davanti noi non abbiamo dei denti come il leone o il gatto che sono denti atti a strappare le carni non solo ma noi non abbiamo uno stomaco che sia in grado di cuocere la carne che è strappata Tostoi no nel suo di cui mi sono occupato il suo trattato sulla caccia eccetera dice che anche lui ottimo lettore di Plutarco dice lo ricorda anche la figlia che era un uomo un po' bizzarro aveva una zia che voleva mangiare il pollo allora lui era invitata benissimo e ha messo il pollo vivo intorno per la stanza ha detto guarda noi mangiamo questa cosa ma se tu vuoi il pollo lo devi uccidere tu e fare quello che credi eccetera allora la carne fa male Plutarco lo spiega sia in questo trattato sia nel simposiaco o nell'etica come si vuole insomma quelli che sono noti come immoralia di Plutarco e e quindi è meglio evitarla Plutarco non dice tutti gli uomini non devono mangiare carne dice quelli che capiscono il terzo motivo per semplificare la cosa ma a me piacerebbe così chiarire meglio tutti questi punti il terzo motivo è di ordine alla giustizia quale sia il più importante per Plutarco lascio la vostra intelligenza valutare noi dobbiamo avere un rapporto di giustizia perché se non abbiamo rapporti di giustizia verso esseri che sono il nostro potere di cui possiamo disporre della vita e della morte non saremo giusti neanche con gli uomini anzi come dice Senofonte e come spiega meglio Aristotele la caccia è stata introdotta per educare i giovani ad Atene al sangue e alla guerra come esercizio propedeutico alla guerra o confessa Senofonte nel cinegetico il trattato sulla caccia la caccia serve a questa abituarsi al sangue naturalmente poi in Plutarco ci sono tantissime altre cose la prossima volta chiariremo io quello volevo dire a voi se magari la prossima volta la prossima volta il professore potrà passare da questi passi ti farà una cosa proprio incincata su queste cose fantastiche che ti sta dicendo nel maniera la carne se vuole le aggiungo una cosa che in Plutarco non c'è ma siccome i più importanti frammenti di Empedocle sono ricavati da Plutarco perché aveva un rapporto particolare quindi Empedocle è del V secolo a.C ha 24 anni viene da una famiglia ricca il nonno è allevatore di cavalli ci sono le Olimpiadi partecipa alle Olimpiadi il nonno gli ha dato un cavallo straordinario vince le Olimpiadi vinta le Olimpiadi è arrivato primo a cavallo voi sapete che il vincitore nelle città greche quale compito aveva doveva sacrificare un bue ai teori cioè ai rappresentanti di tutte le altre città greche che poi se lo mangiava insomma allora lui vince la gara a 24 anni da uno schiaffo alla religione istituzionale allo Stato ad Akragas sagrigento a tutti e dice sì sì io l'ho preparato il bue tira la tenda e invece di sacrificare un bue sacrifica un bue di pasta di mandorle voi avete detto che è un bue e quello sacrifico è una palese confessione del suo credo no? questo è molto interessante voglio dire non è un dato biografico solo è anche una chiave di lettura di comprensione per chi ha fatto di tutto per educare gli uomini quindi è un tema molto importante anche questo trattato sul mangiar carne come direbbe Gregorio XVI Papa è picciolo di mole ma di malizia grandissimo non ho capito se è picciolo di mole fa segno a me sono già pieno di complessi altre domande? beh io direi sì che possiamo ringraziare il professore quando ha detto quelli che capiscono bisognerebbe renderci veramente conto bene di quali sono quelli che capiscono e soprattutto cerchiamo di essere noi quelli che capiscono se no veniamo ascoltiamo delle cose estremamente interessanti e poi non le mettiamo in pratica e il Buddha in un suo discorso a una persona che gli chiedeva e che si chiamava Casa Pagotta Casa Pagotta non so se l'ho detto giusto Cristiana è la mia esatta e gli diceva è assurdo ammonire un cacciatore perché lui quando va a caccia è senza cuore e freneticamente sale sulla montagna va nei boschi eccetera eccetera perché vuole uccidere e dunque è assolutamente refrattario al discorso che noi gli possiamo fare e conclude questo discorso dicendo che il cacciatore ode ma non comprende quindi non può fare guarda ma non vede ecco io vorrei che noi non fossimo questo cacciatore quindi la mia raccomandazione è che siamo stati qui abbiamo sentito un ottimo intervento spunti ne abbiamo avuti in infinità i libri che sono là che sono quasi gratuiti sono a vostra disposizione speriamo proprio che siano di beneficio a voi e a tutti quelli che godranno poi delle conseguenze quindi ringrazio il professore per questo suo intervento se mi dai il cataglio lo posso aprire e ci auguriamo che possa tornare presto grazie allora alla prossima posso dire una cosa che mi viene proprio dal cuore ci sono tre tipi di persone forse quelli che vedono quelli che vedono solo se tu indichi e quelli che non vedono voi io ho avuto l'impressione che siate quelli che vedono grazie 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 grazie